Musica Cari colleghi e cari colleghe, buongiorno. Volevo in questi giorni in cui stiamo già preparando le numerose istanze per il nuovo contributo al fondo perduto per avviarle alla trasmissione che come sappiamo, come abbiamo visto, sarà possibile effettuare dal 30 marzo prossimo. Nel frattempo l'Agenzia delle Entrate ci ha fatto sapere che i controlli che verranno fatti sulle istanze relativi al fondo perduto disciplinato dal cosiddetto decreto sostegni saranno sostanzialmente di due tipi. Avremo dei controlli preventivi, preventivi all'erogazione del contributo, e dei controlli ovviamente successivi. Ovvio che nel controllo preventivo, qualora dovesse sorgere alcune, diciamo, incoerenze, perché il controllo preventivo è un controllo che viene fatto esclusivamente sui dati, sulla concordanza fra i dati inseriti nella comunicazione e i dati risultanti in anagrafe tibustaria, quindi se ci saranno, se verranno rilevate delle discordanze, l'istanza verrà scartata, quindi non ci sarà alcuna erogazione e dovremmo procedere alla correzione, quando possibile, di quell'errore, di quell'anomalia e ritrasmettere una nuova istanza. Cosa ben diversa, invece, nel caso in cui il contributo a fondo perduto già erogato risulti poi successivamente non dovuto in tutto o in parte, perché ovviamente questi controlli successivi daranno luogo poi a un'attività di recupero del contributo non dovuto, con tanto di sanzioni molto pesanti, perché si parla ovviamente di sanzioni amministrative che vanno dal 100% fino al 200% della parte di contributo non spettante, con una sorta di velata minaccia, di avvio comunque e sempre dell'azione penale, cosa che almeno a mio avviso non è realmente così, ma poi già ci siamo impegnati per dedicare una pillola, un argomento, una puntata specifica sul tema delle responsabilità penali. Tornando ai controlli, i controlli preventivi sono controlli di coerenza, come dicevo, ovvero verrà verificato che il codice fiscale del beneficiario del soggetto richiedente, il contributo coincida con quello presente in anagrafe tributaria, verranno controllate le date di apertura e di attivazione della partita IVA e quant'altro. I controlli successivi invece all'erogazione, quindi dato che il presupposto che l'istanza è stata accolta e il contributo è stato erogato, i controlli successivi invece andranno a verificare le quadrature, ovvero se gli ammontari del fatturato dichiarati per i famosi generati confronti e lo scarto del 30% trovano una coincidenza con le risultanze delle dichiarazioni presentate, siano comunicazioni periodiche IVA, sia dichiarazione annuale IVA, ma anche poi la verifica del tetto, ricavi e compensi per andare a determinare i famosi scaglioni. Ovvio che anche questi controlli, proprio per come è strutturato il meccanismo dell'istanza, ovvero come ci dice la stessa norma ma come ha ripetuto anche l'agenzia delle entrate, non è tanto il dato della fatturazione in sé quanto il momento di effettuazione delle operazioni, quindi può benissimo esistere, esisteranno senz'altro casi in cui la montata del fatturato indicato nelle dichiarazioni periodiche o nella dichiarazione annuale non coinciderà con quello che è stato utilizzato per fare i conteggi relativi all'accesso al fondo perduto proprio perché possano esistere operazioni che seppur fatturate non rispettano quelli che sono i criteri della data di effettuazione delle operazioni, quindi fatture differite, acconti su operazioni immobiliari e quant'altro. Comunque prepariamoci, è bene conoscere e leggere il provvedimento e le specifiche tecniche delle istanze di accesso al contributo al fondo perduto per avere esatta conoscenza di quelli che saranno i controlli effettuati, evitare errori e cercare di portare a termine anche questa operazione nel modo più indolore possibile. Con questo vi ringrazio, vi do appuntamento ai prossimi interventi del servizio della Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri. Un buongiorno e un buon lavoro a tutti.